Buonasera a tutti, io parto appunto dalla difesa dei bambini che si è concretizzata diciamo secondo gli organizzatori il 20 giugno scorso a Roma durante la manifestazione, il Family Day. Io essendo abbastanza masochista me la sono seguita tutta perché dovevo scriverne appena sono arrivato, poi parleremo di tutti gli organizzatori eccetera eccetera per ricostruire il movimento anti-gender così com'è ora in Italia. Comunque appena sono arrivato l'impatto è stato il seguente, sono arrivato in una piazza che era effettivamente stracolma, aveva appena smesso di piovere quindi faceva un caldo incredibile e ho beccato questo cartellone che diceva Gender, teorie sataniche, con uno a fianco Gender, la pazzia di un popolo e un altro a fianco ancora che diceva l'Europa, in caratteri maiuscoli, l'Europa senza Dio non ha futuro, diciamo un impatto così leggerino. Nel frattempo dal palco dicevano già, io ero arrivato a due minuti, dal palco dicevano già che erano un milione di persone. Ora come per chi non sapesse piazza San Giovanni è matematicamente impossibile che ci siano un milione di persone. Comunque di lì in poi la famiglia è decollata diciamo, il primo a parlare è stato il Massimo Gandolfini che è un neuroscienziato che come dicevamo prima anche con gli altri ha un curioso dono dell'obiquità perché è ovunque dai giornali, conferenze e tutto, è ovunque. Ed è anche il portavoce del comitato Difendiamo i nostri figli che è stato costituito due settimane prima all'inizio della manifestazione e che raggruppa in sé tutta la galassia antigendere o comunque ultracattolica in Italia. Per fare qualche nome in piazza c'erano le sentinelle in piedi, l'associazione Manifurtus che era diretta emanazione di quella dell'omonimo francese, evangelici, neocatecumenali, su cui poi torneremo, antiabortisti nel Movimento per la Vita, comitato 194, insomma era un bel riquadro della famiglia ultracattolica nel 2015 in Italia. Non c'erano invece, almeno non c'erano a titolo ufficiale, non c'era la Chiesa Cattolica, perché Chiesa Cattolica è un movimenti cattolici più forti come Comunione Liberazione perché probabilmente non avendo avuto l'egemonia in questo caso, questa è la mia opinione, non avendo avuto l'egemonia come era stata nel 2007 si sono defilati pur la CEI è stata la prima promotrice del ritiro dei libretti UNAR a scuola, eccetera, e poi comunque è sempre in prima linea nel riportare le lancette dell'orologio italiano al Medioevo. Comunque i bersagli grossi del Family Day erano appunto il mostro del gender, dell'ideologia gender e il disegno di legge Cirinna che adesso è langue in Parlamento, sepolto dagli ammendamenti di Giovanardi, ed è già di per sé, sul diritto sulle unioni civili diciamo, ed è già di per sé un disegno di legge molto blando. Aumento la voce? Ok. Dicevo contro il disegno di legge Cirinna che è già blando di per sé e in questo momento è pure sotto attacco, su un attacco ferocissimo da parte del mondo cattolico, di tutta la associazione, dei parlamentari, tipo Giovanardi and company. Poi per rendere un attimo il clima che c'era al Family Day, che io ho definito una specie di festival della paranoia ultracattolica, nei giorni precedenti c'era stata una campagna mediatica fortissima in cui ad esempio le mamme o gli insegnanti stesse mandavano messaggi su WhatsApp promuovendo la manifestazione e poi c'era stato questo caso di una lettera scritta dalla preside di una scuola romana in cui si allertavano i genitori di un presunto emendamento gender infilato nella riforma della buona scuola, emendamento gender che non esiste ovviamente. E poi si rilanciava le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che non dicono ovviamente così, comunque queste linee guida nella lettera della preside diventavano un catalogo di perversioni che partiva dalla masturbazione, che prevedeva addirittura la masturbazione infantile precoce per i bambini da 0-4 anni da insegnare a scuola e arrivava a 15 anni a aborto, pornografia, omosessualità, bisessualità, sessualità e poi probabilmente anche la trasformazione definitiva nell'anticristo o qualcosa del genere. Ovviamente non era vero. Comunque tornando in piazza, questo era un po' il clima di totale paranoia da maggioranza assediata da queste lobby, che loro chiamano gay-stapo, che pattugliano le scuole mettendo le gonne ai maschi o al rossetto, eccetera. Questo appunto clima da maggioranza assediata dall'ideologia del gender. Subito dopo Massimo Gandolfini, passando in rassegna a tutti chi ha parlato, quelli che spiccano sono il gruppo della Croce, che è questo quotidiano purtroppo non più di carta, perché anche qua è durato solo tre mesi, poi evidentemente la propaganda anticattolica l'ha fatto ritirare dalle edicole. Questo è il nuovo quotidiano di Mario Adinolfi, che ha avuto una parabola di vita abbastanza spettacolare, perché dal 2007 a oggi è riuscito a passare, cito cronologicamente, da candidato alle primarie del PD. Giocatore di poker, deputato di scelta civica, saggista ultracattolico e adesso relatore al Family Day. Quindi proprio ho fatto un percorso di vita incomiabile direi. insieme nel gruppo della Croce c'è appunto la già citata Costanza Miriano, che è l'autrice oltre a questo best seller progressista, spazio di Sì Sottomessa, è anche colei che poco prima della manifestazione ha detto che se passa l'IDL Cirinà lei si sarebbe separata dal marito. Quindi ognuno porta avanti le sue battaglie, insomma. Forse ha bisogno di una scusa, esatto. Comunque questo è il gruppo La Croce. Poi c'è stato, che ha parlato per una ventina di minuti tra Adinolfi e Miriano. Miriano tra l'altro riuscite a infilare la frase molto pacifica che non siamo né discriminare, è la natura farlo, ovviamente. Poi dopo Adinolfi e Company è stato il turno di questo intervento urlato di un tale Gianfranco Amato, che è un altro che ha il dono dell'ubiquità. È il presidente di questa associazione che si chiama Giuristi per la vita. È sempre in prima linea contro l'aborto, contro qualsiasi cosa che vagamente si assomiglia a un avanzamento nei diritti civili. Organizza convegne tutto spiano, spesso con Forza Nuova o il circolo Il Talebano, che è un circolo che adesso, un circolo rosso-bruno diciamo, che adesso è vicino alla Lega Nord di Matteo Salvini. Viene intervistato regolarmente dalla stampa cattolica oltre a cattolica come se fosse un luminare. Tra le sue dichiarazioni di spicco, giusto per citarne qualcuna, c'è quella per cui l'omosossidità è un problema nel senso che è una patologia non universalmente riconosciuta. Poi in Italia non è mai esistito nessun caso di discriminazione ai gay versus gay e anche lui è pronto ad azioni eclatanti quali quella di andare in carcere nel caso in cui passasse l'IDL Scalfarotto che mette l'aggravante omofobia, transfobia, eccetera, nella legge Mancino. Anche lui ha parlato dal palco e tra l'altro lui ha sempre urlato e a un certo punto ha detto che le scuole in questo momento sono l'equivalente più o meno di quello che erano le scuole a Berlino negli anni trenta. Quindi nel caso in cui non ve ne foste accorti le scuole adesso sono delle strutture totalitarie in cui si impone l'ideologia del gender ai bambini. L'ha detto anche Bergoglio. Sì, è vero. Poi oltre ad Amato che poi ha concluso l'intervento con metafore belliche, cioè proprio ha chiamato, ha detto dobbiamo resistere, non dobbiamo arrendersi, ha citato addirittura Churchill, quindi proprio un delirio totale. Poi per tornare invece a dare uno sguardo alla piazza c'erano le sentinelle in piedi che tutti più o meno conosciamo. Questa associazione informale, formale non si è ben capito, che si è sparsa in tutto il territorio come un cancro praticamente, di ispirazione anche loro francese, diciamo si ispirano alla Manifurtus e altro, e hanno, come tutti sappiamo, hanno questa caratteristica di invertire la gerarchia tra discriminati e discriminatori. Nel senso che loro stanno zitti perché si battono contro l'IDL Scalforotto, stanno zitti in piedi, in questa scenografia un po' vai mariana, tutti in fila a leggere i libri. Gli hanno in mano, però loro pregano, leggono e non danno fastidio a nessuno. Quindi stanno qui in tutte queste piazze, tutti più o meno sanno la strategia comunicativa che è appunto quella dell'inversione del discriminato e del discriminatore, perché loro manifestano per idee, manifestano perché ad altri siano negati i diritti fondamentalmente e si trincerano dietro la libertà d'espressione, pur stando zitti. Quello dicono, beh, adesso stiamo zitti, però tra un po' con l'IDL Scalforotto non potremo parlare. In realtà non è così. Comunque, dietro le sentinelle è interessante vedere che anche chi c'è dietro o tangente ha cercato di infiltrarsi nelle sentinelle in piedi, che sono ovviamente associazioni ultracattoliche e movimenti di estrema destra come Forza Nuova, che tra l'altro nel 2013 sono pure beccate tra di loro, dicendo che Forza Nuova ha imputato dall'Ansia Cattolica, che è questa associazione che è vicina a persone che, secondo quanto ha riportato la stampa, detengono il marchio delle sentinelle in piedi. Forza Nuova ha imputato, dopo che erano stati allontanati da una piazza a Milano, perché avevano portato un libro che si chiamava Omofollia, Forza Nuova ha imputato dall'Ansia Cattolica addirittura di essersi troppo moderati rispetto a questo episodio. Tra l'altro poi una piccola parentesi, oltre alle contestazioni per strada, una persona che è riuscita alle contestazioni contro le sentinelle in piedi, una persona che è riuscita proprio ad incunearsi e a far esplodere il loro sistema, la loro strategia comunicativa, è stato Giampiero Belotti, che come non so se ricorderete è quello che è andato a Bergamo vestito come un nazista dell'Inois, con il Mein Kampf in mano. E lì è proprio riuscito a fargli saltare in aria la loro strategia comunicativa. Poi appunto, visto che abbiamo parlato di Forza Nuova, anche loro erano presenti nella piazza del Family Day, non ufficialmente come Forza Nuova, ma con la sigla Nessuno tocchi il mio popolo, che è una nuova sigla, i movimenti di estrema destra si divertono molto, passano molto tempo a inventare, elaborare nuove sigle dietro cui ci sono sempre loro. Questa nuova sigla è formata da un'alleanza tra Forza Nuova Roma e il Movimento Sociale Europeo, che è un altro partitino di estrema destra che opera Roma, e c'erano in piazza anche loro ovviamente. Questo perché Forza Nuova in questo momento sicuramente sta subendo moltissimo il fatto che Casa Pound si è alleata con la Lega Nord, e quindi medeticamente risalta molto di più Casa Pound che Forza Nuova, a parte che si odiano tra di loro normalmente. Comunque adesso Forza Nuova è indietro rispetto a Casa Pound. E quindi da qualche anno a questa parte è sempre stato ovviamente un movimento di estrema destra ultracattolico, però da qualche anno in questa parte stanno puntando tantissimo sul contrasto dell'ideologia del gender. Ad esempio nell'aprile del 2014 fuori al liceo Giulio Cesare a Roma erano scesi in piazza, si erano messi davanti i ragazzi di lotta studentesca, che è il braccio dovanile di Forza Nuova, per protestare perché in alcune classi si era retto un brano di un romanzo che conteneva addirittura una scena omosessuale. Loro sono scesi con questo striscione che diceva maschi selvatici non che che isteriche. Sono scesi veramente così in piazza. E quindi loro stanno puntando moltissimo sull'opposizione al gender, all'ideologia del gender. Perché fondamentalmente è l'unico modo di avere un minimo di visibilità mediatica. Ci hanno provato anche questo lo scorso weekend, quando hanno organizzato il Family Pride, in concomitanza con il Milano Pride, solo che da una parte al Milano Pride c'erano centomila manifestanti. Loro erano una trentina che tenevano questo manifesto con una famiglia, non so se l'avete visto, ho girato parecchio su Facebook, era questo manifesto con una famiglia ariana praticamente, che era una cosa incredibile, mi consiglio di andare a vedere. E poi, qui vado alla conclusione, tipo? Sì? Le scuole sono diventate un campo di battaglia. Abbiamo già citato il caso dei libretti una ritirati, ma un caso di cui mi sono occupato personalmente, che è proprio perfetto per ricostruire la catena anti-gender, proprio la cinghia di trasmissione dell'ideologia anti-ideologia del gender, è quello che è successo all'asilo di Trieste. All'asilo di Trieste, in un asilo di Trieste, si era sperimentato questo gioco del rispetto che non è altro che un kit didattico che possono usare gli insegnanti. Nell'arco di una settimana a questo gioco del rispetto era diventata un set di un film pedopornografico, in cui i bambini si toccano tra di loro, insomma tutte le possibili nefandezze, grazie ad una campagna partita da un articolo scritto da un genitore indignato per questo gioco del rispetto di Trieste, che guarda caso faceva parte delle sentinelle in piedi. Questo ha scritto un articolo sul settimanale della diocesi di Trieste. Poi è andato sulla stampa locale. Dalla stampa locale è andato molto velocemente alla stampa nazionale di una tendenza cattolica. Da quel momento in poi è esondato su Facebook, sulle varie pagine ultracattoliche tipo notizie approvita in company. Poi è andato di nuovo sulla stampa nazionale. A quel punto i vari Salvini, Matteo Salvini in company, che hanno fatto pure questa svolta anti-gender già che c'erano, Salvini e Casa Pound addirittura, di cui la religione non è mai interessata più di tanto, almeno pubblicamente, e si sono scagliati contro questo asilo in cui i bambini erano sottoposti a sevizie da criptopedofili di estrema sinistra, eccetera. In realtà non era assolutamente così, però quando è stata data la possibilità, cioè il meccanismo mediatico è stato talmente forte in questo caso che le spiegazioni di cosa effettivamente era gioco del rispetto sono rimaste confinate o sul piccolo di Trieste o magari erano, sicuramente non erano stati abbastanza forti da contrastare la macchina di fuoco messa in campo in questo caso. Questo è un caso, ma ce ne sono moltissimi così, basta andarsi a fare una ricerca su Google, di scuola, gender, escono fuori tipo siti come notizie pro vita o company che fanno una battaglia incredibile. Adesso si è pure messo il filosofo Fusaro, che questo, probabilmente lo conoscerete, comunque è questo che va ovunque in televisione, adesso scrive pure sul fatto. Io penso che sia una punizione per colpe che abbiamo da espiare in vite precedenti. Comunque il caso di Trieste perché è molto indicativo? Perché permette di capire a fondo che la strategia mediatica, almeno mediatica e politica, è quella di presentarsi come delle vittime, che è la stessa delle family day, presentarsi come una minoranza addirittura assediata da un mondo che va avanti, nella maniera che secondo loro è sbagliata. Ma in realtà quindi se c'è proprio un'ideologia, se proprio dobbiamo parlare di ideologia, per me sarebbe più corretto parlare di ideologia vittimaria, che è come dice, come ha scritto Daniele Gigliori in un bel libro che si chiama Critiche della vittima, è il primo travestimento delle ragioni dei forti.